and now get ready three two one ladies and gentlemen please welcome this is deep teachers show playing the best deep and soulful house music grooves from all over the world i suoni cool del deep teachers show a tenere vi compagnia per questa ultima ora in console lesson number three we 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 D.J. Davide Podolosi, mixing for you Grazie a tutti 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 Ciao a tutti Grazie 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 a tutti Ciao a tutti Grazie 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 a tutti